Buonasera a tutti, domenica 25 settembre ci siamo quasi, è un momento importante per la nostra comunità nazionale e dobbiamo scegliere. Siamo chiamati tutti a decidere se alzare gli stipendi di chi prende 2, 3, 4 euro l'ora oppure in alternativa come hanno già fatto decidere di alzare gli stipendi di chi già prende 10.000 euro netti al mese. Dobbiamo decidere di tassare le pensioni di tutti coloro che arrivano con la pensione a 1.000 euro al mese o fare come Giorgia Meloni che ha votato la legge Fornero. Se vogliamo che la regola siano contratti di un giorno, contratti a tempo determinato che non superano i 30 giorni, continuare con il Jobs Act oppure che la regola sia un contratto a tempo indeterminato. E' approvato tutti insieme. Questa è una serata. Questa è una serata. Grazie a tutti.